Il Movimento 5 Stelle apre le porte ai cittadini terramani con l'inaugurazione di un infopoint che non vuole essere una sede elettorale ma un luogo di incontro. L'invito è sicuramente a una grande partecipazione da parte di tutti i cittadini. Questa non sarà appunto una sede elettorale ma sarà un infopoint in cui tutte le persone potranno venire a chiedere informazioni e partecipare attivamente alle attività del Movimento. Difatti noi tutti martedì sera alle 21 facciamo degli incontri pubblici in cui tutti i cittadini interessati possono venire, partecipare all'attività ed avere informazioni. Questo è il nostro progetto per la città di Terra. La sua ambizione più grande per la città se sarà sindaco? Allora innanzitutto noi il punto fondamentale del Movimento è mettere dentro persone senza raccomandazioni che lottino contro il clientelismo, rivitalizzare la città e dare una speranza a quelle 16.000 persone che hanno perso il lavoro in questo ultimo tempo e che sono sulla solia di puertà.